Domanda. Mia madre diceva sempre che la vita è una valle di lacrime. Aveva ragione? Sì, perché la condizione umana è ancora una lenta cordata evolutiva. Domanda. Mia madre diceva sempre che la vita è una valle di lacrime. Aveva ragione? Sì, perché la condizione umana è ancora una lenta cordata evolutiva. Domanda. Mia madre diceva sempre che la vita è una valle di lacrime. Aveva ragione? Sì, perché la condizione umana è ancora una lenta cordata evolutiva.